Benvenuti, siamo con la professoressa Daniela Lucangeli, ordinario di Psicologia ed educazione e sviluppo presso l'Università di Padova, Presidente della sezione di sviluppo dell'Accademia Mondiale delle Scienze e Learning Disabilities, IALD, Presidente dell'Associazione per il Codimento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la Ricerca sull'Associazione di Handicap CNIS, nonché soci di numerose associazioni scientifiche internazionali e nazionali nell'ambito delle scienze e dello sviluppo. Benvenuto professoressa. Grazie Fabio, buongiorno a lei. Professoressa Lucangeli, la complessità non ci piace e tendenzialmente cerchiamo di semplificare qualsiasi cosa spacchettandola in diversi campi, ad esempio a scuola la realtà in materie. La stessa cosa l'abbiamo fatta con il nostro cervello, da quale abbiamo cercato di comprendere le funzioni delle varie aree, a cominciare dai due emisferi, dimenticando che il suo funzionamento, come le città anche nel suo libro, alliene in sincronia e diagronia, per di più immersa all'interno di un corpo che lo condiziona. Come cambia la visione che abbiamo del cervello, anche dal punto di vista educativo e quindi anche dell'apprendimento, alla luce di tutto ciò? È una domanda che più che una domanda è già una risposta, cambia completamente il paradigma di quello che consideriamo il processo vivente, cioè questo paradigma, vediamo se riesco a spiegarmi, ha bisogno del crollo di questo dualismo corpo-mente, cioè non è che io sono nel mio corpo e che la mia mente si dice un epifenomeno, cioè la schiuma di questa mia esistenza, per cui è una robetta che se io mi sento triste, felice, esaurita o depressa, ma cosa vuoi che sia, non è un problema. Quindi questa unità corpo-mente, tutte le scienze oramai la urlano, basta pensare che tutto ciò che in qualche modo indebolisce il sistema psichico, non indebolisca la salute intera. Ma oltre questo c'è la comprensione che le neuroscienze hanno consentito che le facoltà recenti del cervello umano, recenti intendo i milioni di anni evolutivi, cioè le cortecce associative, la cognizione, io cosa capisco esplicitamente di ciò che accade di me, non sono in grado di controllare le componenti antiche, che sono quelle senzienti, quindi non basta che io dica non avere paura perché il mio cuore non batta e la mia angoscia non arrivi, non basta dire a chi amo smettila di avere preoccupazioni inutili, perché? Perché il sistema cognitivo, la volontà che comanda, non comanda sul sistema che sente, questo è il grande riassunto. Cosa cambia questo per chi è madre, padre, educatore, per chi è se stesso? Tutto. Perché implica che tutto ciò che compare alla mente è un segnale che indica, per cui se io sento che sono in ansia continua, vuol dire che il mio cervello continua ad utilizzare male l'energia che ha a disposizione, perché l'ansia è un sistema di allerta, 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 quindi consuma, quindi chiede a tutto il resto, corpo compreso, di supportarlo in questa emissione di allerta. Ma se io sto sempre in allerta è come se io camminassi in un percorso in cui ho tutte delle mine, no, 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 guai, 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 oddio, 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 se sono tutte delle mine ma dove cammino? Mi fermo, mi immobilizzo? E quindi, ecco, senza parlare in maniera superficiale, dietro alla tua domanda c'è una risposta molto semplice, ma nel senso di semplicità, non che annulla la complessità, ma che la riconosce. Siamo un sistema complesso, corpo-mente e un flusso informazionale sincrono di tante componenti. Quindi mentre il mio cuore batte, i miei polmoni respirano e tutto il mio sistema mi consente di vivere e il mio sistema cervello sta cercando le sue memorie da portarti, io mi sento in un certo senso incoraggiata perché non sono inutile. E tutto questo sono diversi livelli che contemporaneamente, sincronicamente emergono. Non c'è contraddizione, ma c'è un flusso. Riassunto, un bimbo che a scuola si sente non capito e giudicato, è un bimbo che fa fatica ad entrare nei meccanismi con cui rendere ciò che tu gli dari la cosa migliore per se stesso e così via. Ecco, professoressa, oggi di emozioni si parla molto. Sappiamo che esistono quelle primarie, quelle innate, comuni a tutta la nostra specie e quelle secondarie che si strutturano a seconda del contesto in cui cresciamo. Ma come si attivano le emozioni? Quali sono gli interruttori emozionali? Allora, facciamo un attimo una premessa, no? E muovere vuol dire muovere da dentro. Se noi torniamo alle ricerche più recenti su ciò che significa intelligere, quindi non intelligenza ma proprio intelligere, dobbiamo parlare di un flusso a tre direzioni. L'ho detto tante volte e lo ripeto di nuovo. Da fuori l'informazione arriva a me e c'è una direzione da fuori a dentro. Potremmo considerarla l'istruzione, la connessione di comunicazione. Questa tua informazione ha bisogno di un'elaborazione mia che si chiama da dentro a dentro e poi io ti rispondo portando da dentro a fuori qualcosa che ti arricchisce di come l'ho capita io, sentita io, vissuta io, elaborata io. Quindi cosa significa vissuta, elaborata, pensata? Significa che il da dentro a dentro ha portato ad emergere, vedi, e muovere, ad emergere i segnali che i neuroscienziati chiamano segnali neuroelettrici ma noi li identifichiamo in emozioni, pensieri, azioni. Quindi cos'è che è l'emozione? È questa elaborazione profonda da dentro a dentro che non è però un'elaborazione diciamo cognitiva, cosa accade, come accade, perché accade, quando accade, dove accade, ma cosa sento io. Quindi quando io sento paura, l'abbiamo detto mille volte, vuol dire che mi sento a rischio. Quando io sento gioia, vuol dire che mi dà, cerca ancora, ti fa bene. Quando io sento tristezza, la tristezza mi avverte che io ho bisogno di chiamare a me come il sole, no? La gioia, cioè il suo antagonista, cioè non va bene così come ti senti tu, hai bisogno di qualche cosa che ti porti a desiderare, non a spegnere e così via. È il dialogo antico che il cervello dà alle sue funzioni che comprendono. Se noi queste emozioni però non le ascoltiamo e questi segnali noi li si chiama inibizione, li blocchiamo, cosa succede? Che essendo energia, questa energia va in cortocircuito e addirittura in questo processo che ti dicevo prima corpo-mente, questo cortocircuito è rilevabile non soltanto perché non sto bene psichicamente, ma perché magari mi cominciano tutta una serie di segnali che il corpo mi dà, dal cortisolo che mi indica che ci sono tutto un sistema di infiammazioni, a tutto quello che è il sistema di reazione metabolica, alla salute intera. Le emozioni sono informazioni. Se le cortecce le tacitano, il corpo le deve per forza manifestare perché se no, se no bruciano, bruciano in senso metaforico le terminazioni. Le spine irritative esplodono. Riassunto, corpo-mente sono una meraviglia, ma non è la mente che dice io ti dico guarisci. No, no. Quella parte lì è minuscola, recente, è la volontà, ma la volontà può poco sulle grammatiche del sentimento. Quindi si parla di emozioni, ma come dicono i miei bambini, un conto sono le parole, un contro sono i logos, cioè i significati profondi. Non possiamo pensare di educare le emozioni con schede a scelta multipla, ok? Non si educano così. Quello è un barbatrucco, è un trucco come il mio farda, no? Come il mio rossetto. Non è una modifica della struttura. Le emozioni si modificano solo con le emozioni. L'ansia si modifica con la quiete, la paura si modifica con il coraggio, la tristezza si modifica con la gioia, la solitudine si modifica con il noi, con la solidarietà. Sono forze che, come tutte le strutture che hanno una forza, hanno un minimo e un massimo. Al massimo di paura va bilanciato il massimo di incoraggiamento. E lì, come nei giochi dei bambini, sai, quei dindoli, si va in homeostasi. Se ho tanta paura, ho bisogno che tu, mamma, maestra, padre, maestro, incoraggi. Non ho bisogno che mi giudichi, perché già ho un problema di allerta. Se tu a quella allerta aggiungi allerta, gli scienziati questo lo chiamano fire to fire, quindi aumenti il fuoco con il fuoco, non ottieni niente. Così come verso un genitore. Se tu a un genitore dici è perché tutto quello che tu fai non corrisponde a quello che dovresti fare. Fire to fire. È giudizio. È come se tu mi dicessi, Fabio, guarda, prof, per venire fino a dove siamo noi, non devi fare l'autostrada, non devi andare al semaforo, non devi andare in quel paese, non devi. E guai a te se arriverei stressata e non avrei imparato la strada. Ma ti dovrei dire, ma insomma, Fabio, come devo venire? E tu mi dici, guarda, prof, tranquillo, prendi il treno, arriva lì, scendi. E così è quando noi educhiamo i nostri cuccioli, no? E noi stessi. Meno giudizio è più spazio di miglioramento. Il giudizio è un vero e proprio nemico dei processi evolutivi. Ecco, sfruttando quello che lei ci ha detto in questo momento, anche l'attivazione con questi interruttori emozionali, in base a quello che ci ha appena detto, come possiamo strutturare un'educazione basata sulla warm cognition? Ecco, allora, significa che tu leggi tanto dei miei liberi, Fabio, e sono onorata di questo. Warm cognition è un termine utilizzato dalla ricerca scientifica negli ultimi 10-15 anni per dire che non c'è nessun, cognition è cognizione, warm, calda, che non c'è nessun atto della vita psichica, nessun pensiero, nessun comportamento, che sia scindibile, proprio scindibile, si chiama connettoma in termini tecnici, dal sentire che cosa questa informazione fa a me. Quindi, mentre tu mi parli, io non comprendo solo ciò che mi dici, sento la tua disponibilità, la tua delicatezza, la tua gentilezza, la tua profondità, il mio cervello lo sente, così come i miei occhi ti vedono, il mio cervello ti riconosce. Quindi, il sistema è un sistema che contemporaneamente, mentre comprende, sente. Questa è la warm cognition e questo sta alla base di tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, per cui, se mentre tu mi parli e mi dici che il compito è stato risolto bene, lo fai con uno sguardo che mi manifesta occhio ad occhi, in joint attention, quindi in attenzione condivisa, che sei totalmente disinteressato a me, ma soltanto al fatto che la prestazione è riuscita, beh, quel tipo di passaggio di informazione mi resta in memoria, diversamente da se il tuo sguardo mi dice, caspita, che orgoglio che ho nell'essere riuscita a spiegarti bene. Quindi, la raccomandazione è di smetterla di ritenere che le componenti senzienti siano debole aspetto della intelligenza condivisa. Sono in realtà la forza di mantenimento, non soltanto dell'informazione, ma anche della strada da percorrere. Quindi, se io mi sento che tu sei il mio alleato, sei il mio maestro, sei colui che ha a me come fine, tutte le mie emozioni sono desiderose di riuscire. Se invece il mio cervello sente che tu apparentemente ti comporti con adeguati modi di dire, fare, agire, ma quello che senti è che non mi stimi, non sono un granché per te, sono uno dei tanti, eh, io perdo la forza vettore che mi consente di vincere la fatica. Ecco, se chiediamo con un'ultima domanda. Allora, noi non siamo fatti per stare da soli, ma come si costruisce una sana e serena convivenza all'interno di un gruppo, soprattutto oggi che la socialità è sempre più ridotta? Questa è una delle questioni fondamentali dell'Occidente del mondo. L'Occidente del mondo, negli ultimi due secoli, è andato ad un individualismo che ha garantito il processo di liberazione di libertà individuale. Ma noi siamo tutti organismi viventi. Cosa significa come organismi viventi? Che io posso anche essere da sola nel mio benessere, ma se vengo immersa nell'acqua ghiacciata mi raffredderò. Quindi io posso anche essere da sola nel mio equilibrio, ma se vengo immersa in un contesto umano estremamente agitato, questa agitazione non mi lascia immune. Anzi, come nella pandemia abbiamo parlato tanto del fatto che il tuo respiro contagia la mia salute, tutti gli studi sul cervello ci dimostrano questo. Noi apparteniamo ad una specie che ha un cervello condiviso. Quindi quello che io vi sto dicendo adesso è qualcosa che di me arriva a voi e modifica le vostre strutture. E voi potete sceglierle di prenderle o di non prenderle, ma parzialmente, perché comunque quell'informazione è qualcosa che dovete decidere di espellere, altrimenti lascia una traccia che è una traccia che ti dice guarda, nutriti. Riassunto, la scuola è il luogo più importante in cui avviene questo scambio, questa immersione dell'intelligenza, le une nelle altre, in cui magistere ed allievi si scambiano proprio strutture, si chiamano connettomiche. Tanto è vero che nel momento in cui parliamo di cervello distribuito, allora lì ci si mettono anche le altre scienze. Per esempio i fisici ci parlano dell'entaglement tra le particelle. Quindi perfino le particelle sono in connessione continua, non soltanto le nostre cellule. Quindi non soltanto il meccanismo con cui le mie mani ubbidiscono al mio pensiero contemporaneamente portandoti le mie parole e quindi gesticolano, i miei occhi emettono il segnale di connessione, la mia voce ti fa sentire le mie emozioni, le mie spalle vengono a te per dirti, sono con te in questo momento e con tutti coloro che ci stanno ascoltando. Non soltanto questo, ma anche le strutture atomiche, le particelle sono capaci di partecipare a un sistema di reciprocità. Riassunto, lo spacchettamento, l'isolamento, da un lato consente la percezione dell'autodeterminazione, ma cosa autodetermini in solitudine? L'autodeterminazione è in connessione. E quindi adesso tutte le scienze stanno tornando a dire che la migliore potenzialità di ogni singolo individuo e di ogni singolarità è quella dell'essere immersi nella reciprocità, quello che a parole mie chiamo il noi. Il noi. Per cui non esiste niente di peggiore di affermazioni che abbiamo in testa, per esempio, ma il comune mezzo gaudio è la cosa peggiore che io abbia mai sentito, no? Forse te l'ho anche già detto. Perché invece il bene comune fa bene a me. Quindi tutto ciò che consente a chi è connesso con me di essere in bene aumenta il mio. Perché noi siamo anche per struttura e tutte le ricerche sui neuroni a specchio hanno aperto una porta su questo. A mirror. Quindi la stessa immagine che io ho di me dipende da come tu mi rimandi cosa pensi, soprattutto in età evolutiva. Riassunto, non lo possiamo rendere banale, è un processo che ha milioni di anni di perfezionamento e che ci indica che ciascuno di noi non solo non è immune dall'altro, ma non è immune dall'averne bisogno e non è immune dall'esserne ferito o da esserne aiutato. Possiamo scegliere qual è la direzione che vogliamo dare. Io scelgo quella dell'aiuto, quella della solidarietà, quella della condivisione, quella della confluenza, quella della connessione, nel rispetto e non nell'annullamento dell'identità. Grazie a voi stessa per essere stata con noi. Grazie.